Ciao, mi chiamo Riccardo Sozzi, sono Head of Digital Data per Bytec e sono docente in Talent Garden per il Master Digital Marketing Part-Time. Questo master è dedicato a tutte le persone che vogliono riposizionarsi in azienda acquisendo magari nuove skill tecniche e digitali, oppure persone che non lavorano strettamente nel marketing ma in team affini, oppure imprenditori che vogliono acquisire anche skill di digital marketing per promuovere la propria azienda. L'approccio didattico sul Master Digital Marketing Part-Time è particolare e secondo me molto ingaggiante perché riusciamo sempre a bilanciare molto bene pratica e teoria, soprattutto dando molto spazio alla pratica. Le competenze principali degli studenti che vengono acquisite giorno dopo giorno durante le lezioni secondo me principalmente sono le capacità di organizzazione e di fare domande, non vergognarsi mai dei propri limiti conoscitivi perché si è là apposta e tutti i docenti sono molto preparati e molto disponibili a fugare ogni dubbio. E dall'altra parte tutta la parte molto più tecnica, molto più di hard skill effettive, quindi conoscere una strategia digitale, conoscere tutta la parte di advertising e analytics e avere proprio un approccio strategico ai dati e all'advertising. Il bello di questo master è che gli insegnanti non sono accademici, sono tutti esperti dei settori e del settore specifico nella quale insegnano, quindi portano prima di tutto la loro esperienza e la loro capacità di comunicare effettivamente quello che sentono e quello che vivono tutti i giorni. Quindi le lezioni sono sempre di interazione, di scambio di opinioni su alcune cose. Il project work serve per sfidare, fare challenge agli studenti, è una vera e propria sfida, quindi capacità organizzativa, capacità di sopportare anche lo stress che può portare una presentazione così grossa e soprattutto avere ownership di un proprio progetto personale. Quindi lo studente sceglie un progetto che può essere la sua azienda di riferimento o un'azienda, un brand sulla quale vorrebbe lavorare e inizia a costruire una strategia di digital marketing in tutti i suoi aspetti e alla fine presentare a tutta l'audience di docenti e studenti. Secondo me le opportunità di carriera sono molteplici su un master come quello di part-time perché è possibile riposizionarsi in azienda con nuove skill soprattutto sulla parte digital ma anche sulla parte organizzativa, quindi anche tutta la parte di soft skill, quindi riposizionamento in azienda, oppure cercare nuove opportunità e nuove ruoli anche al di fuori delle proprie aziende.